DEA, Digital Empowerment Academy, è il nuovo progetto finanziato dal Fondo per la Repubblica Digitale, attivo in Campania, Puglia e Calabria. Offre dei percorsi gratuiti nell'ambito delle nuove competenze digitali, con lo scopo di inserire, reinserire o riqualificare nel mondo del lavoro, donne in età compresa tra i 18 e i 50 anni. Da settembre 2023 a maggio 2024 partiranno i seguenti corsi, informatica di base, grafica digitale, gestione dell'e-commerce e web developer. Se hai figli o altri impegni, non preoccuparti, i percorsi prevedono un impegno di massimo 4 ore al giorno e un servizio di babysitting o leudoteca. Chiamaci per avere maggiori informazioni oppure candidati attraverso il forno presente sul nostro sito.